Buonasera, sono Davide Marteis, 100.000 Lounge Brand Manager, prepariamo un drink alternativo allo spi, un drink più fresco, va bene molto l'estate perché è la menta, quindi la menta è molto preferita, innanzitutto mettiamo del ghiaccio, poi prendiamo online, ne spediamo la metà, la pianofiliana, ecco qua, mette quasi la metà, direttamente dalla Germania, mettiamo un sciroppo di fio di Sambuco, una parte così, assolutamente la menta fresca, freschissima, bella, verde, profumata, ecco, bastano due giusti appena, eccoci qua, con la menta, della vista, un po' più secco, va bene uguale, leggera, in modo che si carezza la metà, non si deve testare, non si deve testare, non esce la panna male, non si tratta, quindi andiamo a testare l'eterno della verità, aggiungiamo ancora qualche cubetto di ghiaccio, eccolo qua, un go. E' un'invenzione? A me è un'invenzione, ancora non sappiamo a chi si deve essere invenzione, ma un drink che ha avuto molto successo quest'estate in tutto il nord Europa, in particolare in Germania, e ve lo consiglio, per farlo è facilissimo, è importante procurarvi lo siroppo di ghiaccio. A questo abbinerei un crostino, semplicissimo, con del basilico, senza aglio, per radico, perché la freschezza del basilico sposa bene con la menta, è quindi molto indicato. Grazie.